Quello che vedete è praticamente l'uomo che con i suoi gol ci fa mantenere la categoria. Probabilmente è un giocatore che non avremo più nella prossima stagione, che però si è guadagnato l'affetto del pubblico e sta ringraziando in questo momento tutto il pubblico dei distinti. Due gli uomini probabilmente determinati senza nulla a togliere a tutta la squadra che ha fatto un gran bene soprattutto nel finale, ma direi i veri protagonisti Bettinelli in panchina e Pavoletti in campo. Fra l'altro un grande esempio umano, tutti conosciamo le sue grandi dotte tecniche, si parla di un trasferimento al Torino, sicuramente non sarà più a Varese, si merita sicuramente un palcoscenico più importante. Ecco il saluto di tutta Varese, per quello che è sicuramente uno degli attaccanti più forti della Serie B e che ci auguriamo diventi protagonista anche in Serie A, in una grande squadra. Grazie Pavoletti per quello che ha fatto a Varese.